magia mistero prestigirimi rizzizzazione chi lo sa teatro teatro dovrebbe essere l'unica vera aspirazione per un prestigiatore certo che teatro è un privilegio che si possono permettere pochi questa qui vuoi spingere questa qua sicuro la semplicità questa è la chiave anche nei giochi semplicità ci sono tante cose che voi maghi non c'è evoluzione l'evoluzione è più interiore facciamo un gioco